Ancora due mesi fa le prospettive sembravano tragiche e cioè sembrava che questo stabilimento ormai piano piano si stesse spegnendo. E anche avendoci lavorato molto, insomma, grazie a una disponibilità dell'azienda, oggi si porta a Basciano la lavorazione di punta strategica. La calza senza cuciture che si faceva in serbe, una parte di questa attività viene portata a Basciano. Lo stabilimento Gold e Lady di Basciano in provincia di Teramo non subirà la stessa sorte di quello teatino di Gissi già dismesso dall'azienda di calzetteria. E' quanto emerso dalla riunione presso l'assessorata alle attività produttive della regione Abruzzo, alla quale hanno partecipato, oltre alle istituzioni, anche i rappresentanti dei lavoratori e dei sindacati assieme ai vertici dell'azienda mantovana. I due reparti di Basciano destinati alla chiusura, cioè tessitura e cucitura, nei quali sono attualmente impiegati circa 80 addetti, verranno riconvertiti per la produzione in esclusiva per l'Italia del nuovo prodotto di Golden Lady, la calza senza cuciture, lanciato a fine 2014. Per far questo occorrerà riconvertire i macchinari già presenti a Basciano, circa una ventina, che saranno quindi inviati alle officine di Firenze per gli opportuni adeguamenti. Altri arriveranno da fuori, il tutto nel giro strettissimo di una settimana. In che modo intendete riorganizzare la produzione a Basciano? Introducendo questa nuova tecnologia che sostituirà in parte quella precedente, ricondizionando delle macchine, investendo quindi su tecnologia nuova, brevettata, in grado di produrre in esclusiva per noi questo tipo di prodotto. La richiesta che è stata fatta è quella che nel momento in cui queste macchine saranno pienamente funzionanti, laddove il mercato ci dia ragione e ce ne sia bisogno, ci sia anche la possibilità di farle lavorare sette giorni alla settimana. Dunque i livelli occupazionali al momento e nonostante il perdurare della crisi economica e delle vendite nel settore, sono salvaguardati grazie anche allo strumento del contratto di solidarietà, contratto che per i lavoratori della Golden Lady di Basciano scade il 25 di maggio e che deve essere assolutamente rinnovato.